Le notizie più importanti di oggi Arrivato l'atteso via libera dell'AIFA al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, adesso comincia l'opera di persuasione per le famiglie ancora molto scettiche. Questa vaccinazione è fondamentale come quella degli adulti, ha sottolineato il dottor Gian Sante, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL. Il centro polifunzionale realizzato dal Canada per gli studenti universitari ha riaperto, finalmente, dopo tutte le certificazioni di agibilità. La struttura, gestita dall'Azienda per il diritto allo studio, è stata realizzata con fondi donati dal governo canadese nel post-terremoto dell'Aquila. È un luogo strategico perché è a disposizione dei giovani universitari ma anche per essere utilizzato da associazioni cittadine, ha detto la presidente Elena Morgante. Da oggi, 6 dicembre, è in vigore il Super Green Pass. Il provvedimento avrà validità fino al prossimo 15 gennaio con possibilità di proroga. Sono 994 mila gli abruzzesi già vaccinati che, insieme ai guariti di recente dal Covid, vedranno il proprio certificato verde aggiornarsi automaticamente. Per il giorno 8 dicembre, festa dell'Immacolata, si torna sugli sci a Campo Imperatore, dopo due anni di stop per la pandemia. Gli operai dell'Enel, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, hanno ripristinato il guasto di un cavo elettrico che aveva messo a rischio l'annunciata riapertura della stagione invernale. Va bene fare i lavori a Piazza Regina Margherita, sperando che effettivamente siano migliorativi e rispettosi della storia di quel luogo. Mi chiedo, però, perché iniziare prima di Natale e produrre un indubbio danno alle attività commerciali di quell'area? A chiederselo è la deputata del PD, Stefania Pezzopane, che conclude, l'unica triste spiegazione sono le elezioni comunali.